E' apparso, ma ha fatto di tutto per non farsi notare. Un semplice cinguettio. Tutto è pronto per la conferenza stampa di domani alle ore 11 antimeridiane, orario del Pacifico. Mittente il sito della missione Kepler della NASA. Il link indirizzava la TV dell'Agenzia Spaziale Americana. Fatti due conti, viene fuori che l'orario coincide con le 20 di questa sera. E sempre questa sera alle 20 scade l'embargo della prestigiosa rivista scientifica Science. Insomma, non ci vuole molto per capire che hanno un annuncio da fare. Quanto importante di cosa, non è ancora dato saperlo. Dovremmo attendere le 8 di questa sera e noi saremo pronti ad aggiornare media INAF. Il satellite della NASA Kepler non è nuovo a significative scoperte. Lanciato nel 2009, non ha tardato a scoprire nuovi pianeti extrasistema solare, oltre 100, ma ne ha già messi nel milino 1500, dicendoci inoltre che per ogni stella della nostra galassia vi è almeno un pianeta e considerato che nella Via Latte abbergano 100 miliardi di stelle, il conto, al ribasso, è presto fatto. Ma Kepler è stato anche in grado di raffinarsi e di passare dall'iniziale scoperte di pianeti supergioviani a pianeti di dimensioni assai più ridotte, più piccoli della nostra Luna. Insomma, le permesse sono buone, l'attesa aumenta la curiosità e la speranza è che non si resti delusi. Grazie.